Jackson è sgusciato come da sottoterra sul palco con uno dei tanti trucchi, giochi pirotecnici e mille botti dello show. Il Dangerous Tour è all'insegna del finto lugubre con scheletri e altri simpatici simboli funerari e il bravo Michael si muove a scatti tipo robot o con morbide camminate all'indietro e saltellini che farebbero invidia a Totò per uno spettacolo sontuoso, denso di tutti i suoi successi. Dello stadio molti cercavano di scroccar gratis briciole dello spettacolo.